Davide Davide Eccoci Questa è Torretta No, torretta Viene pure più scelta Viene pure più scelta non devo organizzare per scappar via ecco la scusate mi devo messi a chiamare perché devo scappar via vediamo chi vincerà questo palio tu mi aspetti dalla seconda stampa allora dopo? ti aspetto qua ma se vedi loro, se vedi a fare questa, andate con la stampa allora sotto sopra c'è a questo c'è gli avanti partecipanti ecco, questo è, corretta, piepolo andiamo a organizzarsi intanto per, io dopo scapperò chiudo la diretta e la riapro subito perché vado a fare intervista a caldo, questo è è importante che il sistema io intanto, io il sistema io intanto intanto, andiamo questo è apposto, ragazzi questo è apposto eccoci allora, dai, chi sei cavalli? canelli canelli columbu su remorex don bosco titia su matilla san lazaro zede su bomario da clodia san secondo ricceri su bon antonio da clodia moncalvo moncalvo arry con portorose torretta pusceddu su tiepolo nizia monferrato cersosimo sulla via da clodia san martino san rocco con caria su preziosa penelope e cattedrale con dinopes su briccona da clodia e ve l'ha detto tutti ecco questo è il numero 8 è moncalvo portorose per il mio arry ha fatto molto bene sto cavallino noi sono cosi non ma c'è tutto l'uomo che è ciò è ma quello è perché seguire in allora il numero 8 il numero 12 è canelli così voi lo vedete meglio quando passiate quello va il numero 7 è Don Bosco che è Tittia e Matilla il numero 2 è San Lazzaro Bomario da Croia a Zedde il numero 20 è San Secondo Riccieri con Bomario da Croia al Grigio anche questo Moncalvo Arri con Portorose è il numero 8 Bianco Rosso il numero 1 è Nizza con Cersosimo e Davia da Clodia numero 1 questa è Grigio si conosce bene Nizza il numero 20 è San Martino San Rocco Caria con Pizzusa Penelope il numero quindi 4 è Caternale o di Lopessa e o di Lopessa bene ci siamo ora io stacco tutto questo ha preso un po' di di colore perché se no dopo quando scappo perdo ogni osa sono tutti in fila per l'altro un attimo perché dopo una cosa guardi ce la fai a fare la cosa io ti ammossa faccio col mio questo 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 vai allora fai lui se io posso mi spostare un attimo il braccio dai ecco allora ecco lì quindi al primo posto c'è il numero 8 adesso è c'è Canelli con Remorex al primo posto accanto a lui c'è Don Bosco Tittia poi il numero 2 San Lazzaro Romare la Croia Zeddy quello verde si riusce bene verde poi il mostremino giallo dietro riesco a vedere bene poi all'altro c'è Torretta Tiepolo con Cuscedo ancora più là numero 12 San Martino San Rocco Caria presa da Penelo e bianca e verde bianca e rossa e il cavallo grigio è Sansegono Riccieri il cavallo grigio l'altro bianca e rossa invece Moncalvo Portorose e Altro è Cattedrale numero 4 ecco la un po' di conclusione chiaro ora dietro è Sansegono 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 Moncalvo il cattedrale da ricorso un po' io mi giro perché se no perdo l'inquadratura scusate ma c'è un signore che sta prendendo la cuore mi dispiace ma al primo posto c'è Canelli tranquillo Remorex accanto a lui c'è Tittia Don Bosco poi il numero 2 numero 2 è San Lazzaro Zedde Combo Mario poi Torretta ancora un po' di confusione vedete ora frusta alzata è Torretta è Puscietti non può fare chiede posto di Lopez di Lopez l'ordine diverso è che ho entrato dentro Moncalvo numero 8 ho girato Sansegono Riccieri Riccieri inizia sono più girati di adesso bravissima Matilla con Bosco un secondo un secondo un secondo Riccieri pò non tolano non buona partenza non buona si dà presa un po' l'anno io sto passando la rietra se no un biglio ecco di là io vi devo combattere un po' perché fessorevo intorno ecco di là non mi spiace non mi spiace è ok, è ok è ok, è ok è ok è ok directa ok, am I ok here? ok, è ok mi spiace non mi spiace ecco di là un po' di tensione come è normale che ci sia un po' di tensione come è normale che ci sia un po' di tensione senti il trice? no all'inglese? no 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 i ignoranti come andreggia all'inglese andrebbe se non credo al terzo non piaccia niente tutto è no, non credo e tutto poi rimandato ovviamente dopo dopo le decisioni non c'è niente di immediato sono decisioni posteriori solo per casi veramente eclatanti che non credo andiamo qua andiamo lo zoom per avanti si occola il suo pomare ci avrebbe anche da cucolare buon Antonio e Tiepolo perché vi ha tutti e tre lui la pudire ancora c'è è stato un venticello noioso io mi metto il mio cacchiettino che schizzo che schizzinoso che si era qui ci va si ricomincia io mi metto ma così cavallo di salse ondo e seconda fila quindi Riccieri l'hanno messo il seconda fila perché ecco lo va come dita la retta Riccieri ah non lo so non si sente bene era in bomba forse perché stava non gli veniva il canape stava girato perché gli ha dato un ricami non lo so non si è capito non si è capito non si sente bene non lo so non sappiamo quindi Canelli Lemorex Columbo Don Bosco ma guarda questo Matilda è bravo a casa incredibile cavallo che debuta in provincia veramente tutto bene io ho andato sottovalutato un po' in mente lo metto il primo palio prima corsa in provincia la distanza e andate 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 e avanti il sallaggio e torretta il sallaggio davanti avanti il sallaggio davanti e torretta e torretta è caduto qualcuno e caduto qualcuno è caduto qualcuno e caduto un velo vedi che è caduto in un va e vengo loro ancora avanti san l'altro san l'altro san l'altro terzo e chi è terzo scusa è caduto un po' nantone ma chi è terzo terzo e non lo vedo san l'altro san l'altro san l'altro san l'altro e ancora avanti san l'altro prova a venire su ecco la preziosa passa san l'altro da lì fuori no no san l'altro primo secondo no no san l'altro tepolo sta volando san l'altro san l'altro prova a venire su viene su preziosa san l'altro con un passo incredibile un passo incredibile eccolo lì non di chi sei stato vai arriva arriva san l'altro san l'altro san l'altro san l'altro grande palio grande palio per San Pedro vince san l'altro vince san l'altro zedde secondo ha vinto san l'altro ha vinto san l'altro ha vinto san l'altro quindi vince zedde con cavallo scorso tranquillo è caduto è caduto riceri san l'altro secondo deve essere caduto nuovo il cavallo ed è scivolato però non si avrebbe fatto niente nessuno quindi vince questo fagli una foto fagli una foto ah che se lo può non c'è una metra una foto eccola vince all'altro zedde vince e io adesso vado giù prendi tutto te io vado giù scusate vince vindi san l'altro zedde secondo è tiepolo torretta permesso permesso scusi permesso secondo è è tiepolo adesso chiudo e riprendo con l'intervista tra qualche attimo riprendo subito perché vado a intervistare zedde se riesco a capparlo a un franattimo arrivo